Isole Oh, guarda che bel trailer, già da qua È una bella presentazione, a me piace L'illuminazione è fica L'illumination? Sì Oh, che bello Ma che è una scuola quella lì che c'è a mano Il golem Guarda che bel vasto mondo C'è vita sulle isole, ragazzi Eccolo il nostro Link E' un Link che precipita E' un precipitink Un precipilink Oh, che bel titolo Potrebbe anche essere l'intro di gioco questa Ah, beh E' premia Eh, no, eh Manca un mese Meno di un mese Fiero lì Oh, quella che bella Ti vuole la scopilla in mano Tu ti ha spazzato Sì Ok, ci sono misteri, segreti In zone Segreti, misteri Deserto Gerudo, questo? Ok 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 Ah, vedi che Zelda Con una piglia E' rischioso Questa cosa Non so quale sarà il destino di Zelda In tutto gioco Ma sono dungeon questi? Sembrerebbero Chi era? Chi sei? Che cos... Qua è un visitare con spiace Castello di Hyrule Zelda, eccola Zelda Ci affideremo al link E alla spada che brandisce Sarà lui la nostra ultima speranza Ok Mio signore Ma Link Wow Wow Bellissimo Cos'era? Missile Addirittura le battaglie contro I nemici che possono anche loro Quindi costruire cose Madonna santa Eh sì Finalmente so cosa devo fare È qualcosa che posso fare solamente io Che mora da Amma Sei morata da Amma In effetti, sì Certo Observa attentamente L'avvento dell'autentico re E la nascita di un mondo nuovo È Gelondorf regà Questa è Vabbè Si capiva che era lui Sembra tantissimo il Gelondorf di Twilight Princess quello I quattro campioni? Sei la nostra ultima speranza Ma è bellissimo raga Attenzione Attenzione Ma è bellissimo Quello è Gelondorf in alto a destra Su Vedi? Sì Sul Sulla parete Link Vienimi a cercare Eh ma minchia Ma c'è stanno pure i quattro campioni Raga Sono loro? Possibile? Che spettacolo Ma è bellissimo sto trailer Oh Madonna santa Ma è bellissima